buongiorno cari amici benvenuti dal vostro andrà al matematico in questa nuova lezione di goniometria in questa nuova sezione dedicata alle disequazioni goniometriche in pratica andremo a riprendere tutti i tipi di equazioni che abbiamo visto da quelle elementare fino ad arrivare a quelle lineari oppure quelle insomma di vario tipo che abbiamo visto a livello di equazioni goniometriche e andremo a vederle sotto forma di disequazioni ad esempio partiamo dalla prima disequazione di stampo chiaramente elementare dove abbiamo il seno di x che è maggiore di un mezzo in questo caso se fosse stata un'equazione avremmo intersecato la circonferenza goniometrica con la retta y uguale ad un mezzo determinando sulla circonferenza due angoli uno l'arco il cui se ne è un mezzo che è pi greco sesti e l'altro è pi greco meno l'arco il cui se ne è un mezzo che appunto sarebbe pi greco meno pi greco sesti ovvero 5 sesti pi greco in questo caso essendo una disequazione ci chiedono tutti gli angoli per cui il seno risulti essere maggiore di un mezzo quindi siccome il seno è sull'asse delle y andiamo a prendere tutti i valori sull'asse dalle y che risultano essere maggiori di un mezzo e andremo a prendere tutti gli angoli per cui questa cosa sia verificata ora ovviamente vedete che tutti gli angoli che sono al di sopra della retta y uguale ad un mezzo rispettano questa condizione per cui sono tutti gli angoli che sono compresi fra un sesto pi greco e 5 sesti pi greco una cosa molto importante quando scriviamo la soluzione è sempre di andare a mettere la soluzione dall'angolo più piccolo all'angolo più grande in questo caso siccome la rotazione avviene in senso appunto anti orario vedete che possiamo tranquillamente scrivere la nostra soluzione come x compreso fra pi greco sesti ovviamente più la periodicità quindi più k pi greco e 5 sesti pi greco ovviamente più la periodicità associata al seno quindi più 2 k pi greco scritta in gradi sarebbe 30 gradi più k 360 fino a 150 gradi più k 360 prendiamo il secondo esercizio dove il seno di x è minore di meno la radice di due mezzi anche in questo caso pensiamo all'equazione associata quindi è come intersecare la circonferenza goniometrica con la retta y uguale a meno radice di due mezzi che ci dà appunto due angoli uno l'arco il cui seno è meno radice di due mezzi che ovviamente è un angolo noto e ne pari a meno pi greco quarti e l'altro sarebbe meno tre quarti pi greco ora anche in questa situazione queste sarebbero le soluzioni dell'equazione associata siccome noi vogliamo trovare tutti quegli angoli il cui seno risulti essere inferiore a meno radice di due mezzi dobbiamo andare a prendere sull'assa delle y tutti i valori di k che sono inferiori a meno radice di due mezzi e individuare sulla circonferenza goniometrica tutti quegli angoli che verificano il fatto appunto che il seno risulti essere più piccolo di meno radice di due mezzi in questo caso vedete che sull'assa delle y ho evidenziato tutti i valori che sono inferiori a meno radice di due mezzi e di conseguenza sulla circonferenza sono andato a determinare quella parte di circonferenza goniometrica che si trova al di sotto di questa costante e quindi questa cosa vale per tutti gli angoli che sono compresi fra il meno tre quarti pi greco il meno pi greco quarti quindi la soluzione possiamo anche scriverla come x compreso fra meno pi greco quarti più due k pi greco e meno pi greco quarti più due k pi greco scritta in gradi sarebbe meno 135 gradi più k 360 gradi che è l'angolo inferiore appunto dell'estremo quindi come il minimo dell'intervallo e meno 45 gradi che coincide con meno pi greco quarti più k 360 gradi il terzo esercizio abbiamo ad esempio ancora in seno il seno di x che è maggiore o uguale a uno scopri il corso di trigonometria e goniometria sul sito andrea al matematico punto it sotto i corsi completi e sotto i mini corsi all'interno della sezione dei corsi avanzati troverai il corso di goniometria e di trigonometria che parte dai concetti base della trigonometria e della goniometria affronta le principali funzioni goniometriche con tantissimi esercizi che riguardano espressioni con angoli noti affronta le principali formule che vengono analizzate per gli angoli come la duplicazione o la bisezione con una vastissima gamma di esercizi che riguardano sia le equazioni goniometriche che le disequazioni goniometriche fino ad arrivare ai teoremi che riguardano la trigonometria un corso con oltre 50 lezioni adattissimo sia a chi sta studiando le scuole superiori quindi licei scientifici sia chi deve affrontare l'esame di facoltà ad esempio nell'ingegneria e gli mancano basi adeguate o vuole approfondire certi argomenti sulla goniometria e sulla trigonometria mi raccomando accedi al corso e continua a visitare le lezioni di youtube ciao 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 ciao